E adesso qui a Mattina Lavi vi presentiamo uno originalissimo progetto artistico che rielabora la produzione poetica del grande Totò portandola ai giorni nostri in un arcobaleno di musica elettronica. Un affascinante esperimento tra l'altro per celebrare anche il settantesimo compleanno della nascita del testo di Totò Malafemmina e tutto questo è Totò Poetry Culture, il duo composto dal giornalista, nonché poeta e performer Gianni Valentino. Ciao Gianni, ben trovato. Grazie, grazie dell'accoglienza. E c'è anche il musicista Lello Trama. Buongiorno. Buongiorno. Un progetto che tra l'altro è in vinile, un vinile ed è a tiratura limitata Gianni, quindi ricordiamolo anche al pubblico. Un progetto molto affascinante, impordibile che tra l'altro fa incontrare la grandissima, straordinaria poetica di Totò e la musica elettronica. Esatto. È un esperimento molto appassionato e passionale che ci vede per la prima volta assieme in maniera creativa profonda perché io e Lello ci conosciamo da una ventina d'anni, abbiamo spesso incrociato le vite e anche le esperienze artistiche in qualche modo. Solo che stavolta siamo proprio insieme, a braccetto, in felice compagnia in questo viaggio nel mood poetico e letterario appunto di Totò per un senso di intensa gratitudine nostra nei confronti appunto di Antonio De Curtis sia come uomo che come artista. Probabilmente il cinema, il suo mondo cinematografico, le avventure teatrali, per alcuni hanno messo in secondo piano la sua scrittura, diversi. Il poeta, l'uomo appunto che poi si nascondeva dietro le sue poesie, ecco quella melanconia, quel colore che sicuramente era sinonimo di grande forza poetica, di sensibilità, di osservazione del mondo. Infatti le poesie che abbiamo selezionato raccontano i suoi rapporti con la città, il suo sentirsi e vivere l'arte con le crepe o con le gioie, i rapporti con le femmine, con l'amore, con la miseria o la ricchezza, con il popolo. Con la risata e con il dolore, con il pianto. E vanno sempre insieme anche risata e dolore. E poi tra l'altro che poi difficilmente o facilmente, se poi conosciamo tutto, riusciamo a cogliere, in realtà noi dovremmo avere la capacità di poterle cogliere. E questa diventa un'occasione, un'occasione attraverso questo progetto imperdibile. Quali i brani che ritroveremo all'interno di questo vinile? Su questo vinile abbiamo deciso di incidere Malafemmina e sul lato A e il lato B c'è l'altra faccia di Malafemmina che è una composizione inedita, sempre su Musiche Mie, ma con i versi di Gianni. Perché dopo aver completato la sonorizzazione di Malafemmina, io ero in studio e ascoltavo e chiamai Gianni e dissi Gianni adesso devi scrivere qualcosa. Nel senso che ci vuole una poesia che completi l'opera di Totò. E quindi Gianni ha scritto Mizuzina, che con questo termine... Era il nomignolo amoroso con cui Totò chiamava Diana, che è poi sua moglie a cui è dedicata Malafemmina. Esatto, anche qui poi c'è un solo... No, è Diana. Un percorso... È Diana, è Diana. Ecco, bisogna fare un po' di disambiguazione. Chi è davvero la destinataria? È Diana, la moglie, l'amore intenso. Sì, poi dopo c'è stata Franca Faldini, compagna per più di 15 anni, ma è Diana. E quindi, come dire, nel vinile c'è lo spirito di Diana su entrambe le facciate. Noi abbiamo ricevuto da Elena Anticoli de Curtis, che ringraziamo per la fiducia, che è la nipote, figlia di Liliana, per la fiducia dal primo istante in questo nostro progetto, anche se vuoi spericolato, rischioso, perché ovviamente pensare a una poesia antica con i circuiti da dance floor, con ambient, idm, funk, dub... Esatto, è insomma non banale e ci vuole tanto studio sicuramente. Ecco, come si possono abbinare questi due mondi apparentemente così distanti? In un certo senso comunque sia io che Gianni veniamo... Ma qual è l'anima che viene fuori? Dall'ambiente noi sintetizziamo tutto con il termine elettronica, però veniamo dall'ambiente un po' così come dire dei beat spinti di quella che è la musica ballabile. Tutto è stato pensato proprio per dare risalto ai versi, quindi c'è questa volontà di portare il progetto ad un determinato livello musicale, però cercando sempre di mantenere vivo il significato delle parole. Quindi la musica interviene proprio ad hoc sui versi che Gianni ha recitato, come allo stesso tempo ci sono delle parti strumentali, però il significato vero è quello proprio di lasciare la poetica intatta di Totò. Esatto, la poetica intatta di Totò perché poi ricordiamo Totò un grande dietro la macchina da presa ma tantissimo anche per quanto riguarda il suo poetare, il poetare in versi che hanno di per sé nel loro implicito già questa sonorità. Sì, in qualche modo, come diceva Lello poco fa, la priorità era tenere il suono, la prosodia della parola. La prosodia della parola, perché le scelte delle parole di Totò non erano a caso. No, 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 c'era una musica già nei versi, lui per esempio non sapeva leggere o comporre sul pentagramma ma aveva un suono interiore, diciamo così, e noi non abbiamo voluto fare canzoni ma c'è appunto voce recitante con tutta una sonorizzazione cui... Un arcobaleno di elettronica. Sì, perché facendo queste strutture sonore, queste architetture musicali... Non c'è monotonia nei versi, ci sono... ecco... C'è un viaggio contemporaneo dei versi e del suono e chi ascolta, chi fruisce, entra sia nei suoni delle parole che nei suoni, diciamo, soltanto degli strumenti... Che si accompagnano in maniera armoniosa e osmotica. Ma sarebbe stato più semplice fare delle canzoni, arranciare delle canzoni e non lavorare proprio ai versi... E rispecchiando i versi del poetale di Totò. Tra l'altro questa è un'occasione anche a Lello per poter riportare ecco ai nostri giovani insomma un autore come Totò che probabilmente è poco conosciuto alle nostre generazioni. Certo, tant'è vero, lasciami ricordare per i più giovani che non ci sono solo le tracce del vinile ma ci sono anche già una serie di tracce disponibili su YouTube e su tutte le piattaforme streaming. Insomma, dobbiamo ascoltarlo, Malafemmina, grazie a Gianni Valentino e a Lello Trama per questo progetto artistico molto particolare e straordinario. Grazie a voi e complimenti per l'idea avuta. Grazie. Restate con Mattina Live. Grazie a tutti.